Tutto esaurito qui all'Allianz Stadium e non sarebbe una novità se giocasse la squadra maschile. La grande novità, la grande festa per quest'oggi è che qui sul campo sono scese le Juventus Women. Una grande festa di sport, oltre 40.000 ai tifosi che sono accorsi per vedere le ragazze di Coach Guarino. Grande festa, dicevamo, e grande entusiasmo. Partiamo dalle voci che abbiamo raccolto tra i tifosi prima del match. Sì, è bello, soprattutto perché non ci sono mai stata, quindi vederlo per la prima volta è emozionante. Per lei? Anch'io è la prima volta per questo evento. Prima volta da spettatrice di una partita, sì sì. E poter alle donne. Un'emozione, queste ragazze hanno fatto il tutto esaurito. Sì sì, 39.000 biglietti venduti, sapevo. Le bimbe, prima volta per i bimbi. Come si chiama lui? Cristian Michele. E lei? Ginevra. Ginevra, buona partita Ginevra. La prima volta, a dir la verità. Un'emozione vedere lo stadio. Sì, ci hanno già stato, però è abbastanza emozionante sempre. Una bella giornata di sole. Lei è della Juve? Sì, Juventino. Le women le ha già viste? No, mai. Quindi un esordio. Sì, la prima volta anche per me. Io sono già venuto per la Juve sempre, però adesso per la prima volta portò Nicole, che voleva vedere la Juve, che voleva giocare anche a calcio alla Juventus, mi ha detto. Quindi abbiamo già una giocatrice in erba pronta a esordire. Senti, per te questa giornata di festa, prima volta allo stadio? Sì. Bene, allora buon divertimento. Abbiamo anche il filo che ti ha avuto per le donne, benvenga, poi è gratis, meglio ancora. E un'abitura dello stadio? Più o meno sì, anche perché i prezzi non sono molto economici. Vederlo pieno per le donne è una bellissima vittoria. È bello, è bello, è bello. Rilanciamo anche il calcio femminile, è una possibilità anche per vedere, è una possibilità per le ragazze che anche per... Sono emozionate. Esatto, sì, sì, per loro alla finale, giocare all'Allianz Stadium... Esaurito. Esaurito per di più. Quindi... Sono emozionate al massimo, saranno un'emozione pazzesca per loro. Adrenalina mille. Io da grande voglio diventare un calciatore e giocare in questo campo qua. Ma giochi già a calcio? Sì, 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 infatti voglio... il mio sogno è giocare in questo campo. Io sono per il rosso e il nero, però per le donne si fa questo ed altro. Vogliamo che sia una giornata di festa. Ma anzi, già il sole, la giornata, il tempo è molto bello. Il primo picnic dell'anno. Bene, lei? Mi ha trascinato, quindi alla fine poi devo accompagnare tutte le donne. Per non lasciarlo da solo con le donne, sono venuto anch'io. Il calcio femminile, insomma, spesso viene un po' trascurato, però questo stadio esaurito di oggi è una bella... È una bella occasione per conoscere anche un'altra realtà, sì, sì, sicuramente. E buona giornata. Grazie mille. È una domenica diversa, dai. Eh, anche noi Rete7, Rete7, sempre io. Grazie mille.